hola mis amores benvenuti al mio canale io sono vania e oggi siamo arrivati a 2000 iscritti siamo 2000 iscritti nel mio canale ragazze veramente mi fate molto molto felice ragazze perché so che voi che state dietro di quella telecamera mi guardate ogni settimana e che piace il video il contenuto che sto caricando nel mio canale veramente ringrazio tanto perché senza di voi questo canale il mio canale non tendria un senso ok lo vedete nel spagnolo ma sicuramente voi capite quello che voglio dire perché voi siete bravissimi è veramente in un mondo tutto ideale un mondo da vania mi piacerebbe dare un regalo a ognuno di voi e conoscervi di persona ma questo è un po complicato un bel po complicato perciò ho questo regalino qua tatatatan questo qua ragazze che sarà per qualcuna di voi quindi facciamo un sorteggio dei 2000 iscritti quindi vi faccio vedere il contenuto di questa scatolina che sarà per qualcuna di voi ma come avete già visto si tratta di questo marchio dermolaf che sono dei lavoratori che fanno dei prodotti fantastici per la cura di la pelle e sicuramente vi chiedete ma vania perché stai regalando delle creme la risposta ragazze è molto molto semplice prima di tutto come sapete questo canale ovviamente si tratta di trucco ma per me e per tutti quanti questo è per tutti quanti una cosa molto molto importante prima di realizzare un trucco è avere cura della propria pelle ragazze perché il trucco va benissimo si possono creare tantissimi tantissimi look diversi eccetera eccetera ma se non abbiamo una base una bella base una bella pelle dove lavorare il risultato non sarà quello che aspettiamo quindi perciò voglio regalare a qualcuna di voi questo kit per avere cura della propria pelle per cominciare ragazze vi faccio vedere quello che c'è dentro di questa scatola e contiene questa crema ultra idratante e dentro ci sono delle micro sfere con l'acido ialuronico questa è una crema che si può applicare sia da giorno o di notte quindi ovviamente va a super super idratare la vostra pelle tra l'altro come sapete il clima è molto cambiante cioè stiamo finendo questo periodo invernale per dare passo alla primavera e questo crea uno stress in la pelle ragazze che io lo vedo su di me e quindi la idratazione è una cosa che va per prima per qualsiasi per qualsiasi età ragazze veramente quindi questa è la crema che viene qua dentro e poi c'è questo latte detergente per viso e occhi e ha delle micro sfere anche questo ha delle piccole piccole micro sfere con acido ialuronico incredibile ma è vero ragazze quindi con questi due vedrete un cambio super positivo in la vostra pelle ragazze e poi del regalo perché c'è un altro regalino qua dritto cioè a parte di questo regalo viene un altro che è questa pochette guardate questa pochettina qua fatemi scartarla e questa è la pochette che viene dentro del regalo ragazze queste pochettine non gustano mai veramente quindi ragazze questi sono i prodotti che sarà per qualcuna di voi e l'unica cosa che dovete fare per partecipare in questo sorteggio è molto molto facile prima di tutto dovete essere iscritti a questo canale il secondo passo è lasciare un commento sotto a questo video e qui faccio una parentesi ovviamente la persona che lascia più commenti ha più possibilità di vincere però solo potete lasciare un commento per giorno sì perché perché l'algoritmo di youtube si vede che voi lasciate un commento per esempio lasciate un commento oggi e un altro domani prima delle 24 ore questo algoritmo vi manda come spam e ovviamente non mi lascia vedere i vostri commenti quindi perciò è molto importante un commento per ogni 24 ore o un commento a giorno ovviamente così avete più possibilità di vincere il numero 3 è condividete questo video in modalità pubblica quindi ragazze questi sono i tre semplici semplicissimi passaggi come vedete sono molto molto facile è il tempo per partecipare è da oggi 21 febbraio fino al 19 marzo quindi avete questo tempo per partecipare e lasciare i vostri commenti siete tutti invitati a partecipare in questo sorteggio ovviamente solo dovete seguire questi tre semplici passaggi che ho detto prima e adesso ragazzi io vi auguro un grande in bocca al lupo buona suerte e noi ci vediamo al prossimo video vi lascio un bacio enorme ciao 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 ciao